Peppino Longo, ci sono molte polemiche a livello regionale legate alle primarie, PD e SL sembrano ormai aver litigato. D'altro canto però anche il centrodestra si sta preparando probabilmente ad affrontare le primarie. Lei come vede questa situazione? Che cosa pensa farà l'Udc? Ma intanto è giusto che si facciano le primarie. Io sono per le primarie in modo tale che di lì possa uscire fuori il candidato presidente sia di una coalizione che dell'altra. Di SL succede sempre così però poi alla fine sono come due fidanzati che si litigano e poi stanno sempre lì insieme. Per quanto riguarda noi Udc aspettiamo indicazione da Roma e dipende appunto che cosa si farà nell'ambito di tutte le regioni dove si voterà sia ad ottobre, ottobre si vota in Calabria e in Emilia che poi a primavera nelle altre mi pare nove regioni. Quindi aspettiamo indicazioni da Roma e vedremo un po' se si seguirà la linea che si sta seguendo a livello romano quindi a livello di governo oppure ci saranno indicazioni diverse a noi in Puglia. Lei è modugnese. Modugno sta vivendo un momento storico difficile in realtà ormai da qualche anno però anche questa amministrazione è in grave difficoltà. Poi è notizia delle scorse ore. c'è stato anche questo attentato che non sappiamo se ha una matrice politica o meno però c'è molta tensione nell'Ari. Io penso che l'attentato senz'altro non sia di matrice politica almeno lo spero e comunque sono atti vandalici che non si dovrebbero fare. Per quanto riguarda poi il momento è un momento particolare. Lo ammetto un momento particolare però è la maggioranza che poi era una bella maggioranza l'anno scorso insomma Magrona ha vinto e quindi diamo merito di questa vittoria. Una bella maggioranza che si è sfaldata ma è un problema loro, un problema politico loro quindi io escludo che questa maggioranza si sia sfaldando per problemi legati all'urbanistica. Grazie a tutti.